Ciao amici e benvenuti al canale di Isabella. Amici, oggi apriamo l'edizione di ottobre perché è Halloween. Ora apriamo questo gioco di te. Guarda ce, due cucchiai, due piatti, la cafetera, pe l'acqua, due tate. Guardate i bambini. Guardate i bambini la rivista che già scelgiamo. Ma guardate i bambini qua c'è la casa di Barbie. Qua possiamo anche leggere. Qua possiamo anche leggere. Guardate i bambini i sticker. Qua possiamo anche colorare. Qua possiamo anche fare un gioco. Guardate i bambini la per l'autunno. Halloween. Qua possiamo anche scrivere. Finito. E sopra il nido, indovino, guarda c'era. C'è la mia uova, il uova sopra il nido. L'avevo piantato in mezzo al prato. L'avevo piantato in mezzo al prato. E sopra il uova, indovino, guarda c'era. C'era un cucchino, il cucchino sotto il uova. Il nido sopra il uova. E la mia sopra le foglie, le foglie. Sì. Ora apriamo la bambola strega. Yeah! Guardate amici! Ora apriamo la mia bambola. Amici ci sta anche la scopa. Ci sta anche, guardate bambini, ci sta anche gli stivali, questo cappello, questa collana, questo vestito. Come qui. Guardate bambini, questo è il disegno di colorare. Possiamo leggere tante storie. Qua possiamo disegnare anche il nostro vestito di Halloween. Qua possiamo anche colorare il nostro vestito di Halloween. Guardate bambini, il sticker. Qua sceliamo anche un poster. di Halloween. Per fare da 100 cazzetti, cosa ti vestite? Io vi vestirò da, lo scoprirete mio e mio video. Qua possiamo fare i cazzetti in cucina. Questa mi manca per far ridurci. Qua possiamo anche disegnare. Qua possiamo anche leggere. Amici, se ti è gustato, leggamelo un like. Se ti è accanto, vuoi risurri. Sì, non ci vuole. Adios! Adios! Sì, 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 sì.